Ma dove vai il baffone in bicicletta, così di fretta pedalando da camion? C'è gli limoni, quelli migliori, che ti ha già messo la passione dentro al cuore. Ho pedalato in giro per l'Italia per selezionare solo i migliori limoni 100% italiani. C'è gli limoni, quelli più buoni, per visitare tutti i cuori. È così che nasce il nostro festival, cogliendo solo i frutti migliori. Sorprese troverai. Ma dove vai il baffone in bicicletta, così di fretta pedalando da camion? C'è gli limoni, quelli migliori, che ti ha già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai il baffone in bicicletta, così di fretta pedalando da camion? Cerchi limoni, che buoni, per visitare tutti i cuori. Sabato sera non è l'unica notte. Sabato sera non è l'unica notte.